Ho una polemica Ho una polemica Allora Iniziamo Sono appisolato Marco Però poi dire iniziamo La dice da Alexa la polemica Non va bene così Non si può Allora Siamo andati all'Ikea Siamo riusciti ad andare Ho preso anche due mensole per la libreria 20 euro Due mensoline Così campo per un altro mese Bene Andiamo all'Ikea Avevo voglia di volpettine Io prendo quelle vegetali Ci sono le normali, le vegetali e le vegetariane Le vegetali hanno Con piselli Le vegetariane hanno più Verdure grigliate Io prefisco le vegetali Che rimangono più dure Più compatte Poi mi piace il sapore del pisello Poi Ok Innanzitutto Arriviamo Ci sembrava chiuso Perché Non c'era pochissima gente Poi ho detto Vabbè Magari siamo arrivati a luna No Però Di solito L'ora di mangiare Sì Mentre Arriviamo Davanti alle polpettine Vediamo che lei discute Lei e il suo collega I cuochi Insomma Gli addetti Parlano con un uomo E sono visibilmente distratti Ma io cerco comunque di Signorina Io devo anche mangiare C'è gente poi Che infila Signorina Io voglio le vegetali Polpette vegetali Franci fa anche io Mette dentro Botta dentro 8 polpette Io mi ricordo che una volta Potevi scegliere Se prenderne un po' O una quantità specifica Mi ne ha messe 8 di numero Che probabilmente Non puoi più scegliere Di metterne di più Sono così Sono Infatti ho detto Vabbè Vabbè Prenderò un po' più di patatine Senza che io gli dica niente Prende Prende il purè E ci mette il purè Quindi non ci fa scegliere Patatine o purè E le patatine Ce ne erano ancora tante Non ci fa scegliere il purè E una volta Si poteva scegliere O patatine fritte Oppure Anche perché erano lì Quindi erano lì Le patatine fritte Davanti a me Non ha chiesto niente Lui ha fatto tutte le salse Io gli ho detto Io le voglio tutte Ha messo Prima che finisse la frase Franci ha detto No io le voglio solo Ha messo Gli ha messo una salsa La prima che c'era Vabbè Ragazzi Saranno fretta Intanto parlavano Distrattissimo Ok Passiamo Dice vabbè C'era un altro Tutto loro Io e Franci eravamo inutili Noi pagavamo Anche cose che non abbiamo chiesto Prendiamo le patatine fritte Che ce ne erano altre Però No fritte Scusate Erano patatine al forno Quelle lì erano fritte Quelle avevano loro Va bene Ho detto Vabbè A questo punto Visto che non ce le andate loro Prendiamo qualche patatina al forno E ci hanno preso delle patatine al forno Io ho preso un tiramisù piccolino E Franci un pezzo di torta Va bene Mi prendo anche dei cosini di cioccolato Non c'erano Andiamo a posto E oltre Ovviamente ad aver fatto tutto loro C'è stato un piccolo problema Le polpette Sono Erano vere Di carne Ora Noi non ci siamo alzati E non siamo tornati Non siamo tornati al bancone Però se io ero vegano Ero allergico Qualsiasi altra cosa È gravissima questa cosa Tu mi hai messo quelle di carne Io ti ho chiesto quelle vegetali C'era ad alzarsi In questa Ikea In questa Ikea In questa Ikea ci siamo stati altri quattro volte Era tutto a posto Quanto noi abbiamo quattro di Ikea Abbiamo cinquecento Io ripeto Uno Se io sono vegano Vegetariano Un disastro Sto continuando a ruttarle Queste polpette Queste otto polpette Minuscole Stasera ragazzi Finiamo Chain Together Clicca qui Non l'avevo fatta Scusate Non lo prende Perché non lo prende La prende Che non lo prende Sicuro che lo prende Eh sono sentito Erano polpette vegane No Perché io gli ho chiesto Le vegetali Ma non erano Ma anche su TS Le sentiva No no Su BS proprio mi ha Come al solito Tolto il microfono Grazie Sissi Sì lo sappiamo Di Vanna Marchi Sappiamo tutta la situazione Che situazione Eh hanno annunciato Al Firenze Comics Hanno annunciato Vanna Marchi Come grande ospite No vabbè Ci vado in cosplay Due secondi dopo Hanno cancellato tutto Dicendo siamo toscani Si ruzza Testuali parole In realtà No Perché l'hanno riempiti Di insulti E loro hanno scritto Questa cosa Palesemente Non è vero Che era uno scherzo Hanno fatto tutta la pagina Con tutta la descrizione Taggando Vanna Marchi Literalmente Il Scrivi la cazzata E poi scrivi in chat Hanno proprio scritto Sì sghe Questa Letteralmente Sì sghe Hanno detto Ovviamente Però non era vero Erano serissimi Sono toscani Marco Hanno scritto Siamo toscani Si ruzza No No Ero ironico Ero ironico Sì 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 E va bene Vanna Marchi Comunque è stata Così Thanos mood Ed è esplosa Insieme a tutto God Ora quel post È limitato solo A chi segue la pagina Da 24 ore Non lo so Ho visto però Che ormai Lo screen è andato Grazie oggi Oi Jack Oggi Grazie anche a Tozzolo Mi raccomando Se regalate la sub Fino al 19 agosto Avete tre mesi di Apple Plus Gratis Io tendo a non arrabbiarmi No no Allora in questo caso C'era davvero da arrabbiarsi Perché ripeto Se ero allergico Se ero Cioè Non si fa Queste cose sono gravissime Soprattutto fai tutto tu Poi anche i contorni Tutto tu È proprio grave grave Cioè se ero allergico Alla carne Che posso Tirare all'ospedale E tu mi dai un'altra E lì non dovevi stare No hai ragione Hai ragionissimo Io non ho allergie Contro la cosa del pure Chi se ne frega No ma io ho detto Non ho allergie Non faccio casino Però non volevo mangiare la carne Anche quello Vabbè Ma quello Vabbè Pazienza Perché lì Vabbè Però quella è una cosa Molto più grave Il fatto è che Non volevo mangiare la carne Invece ho mangiato Alla fine Devo fare Anche perché Buttarle via Era peggio Perché L'animale è morto E in più E lo buttavo via Quindi era doppiamente sprecato Me lo so mangiare Erano stati letti frustrati Che vogliono andare in ferie Anni tour No no ma erano Allora Io non l'avevo notato Franci ha detto Che secondo lei Stavano litigando Con quest'uomo Con il bambino Io non me ne sono accorto Perché se stavano litigando Ma erano alterati E non ci hanno pensato Perché non mi stavano cagando Cioè io facevo gli ordini Ma vi giuro Era come se non ci fossi Ero invisibile Cioè mi hanno proprio messo le robe Come dire Sì sì Zitto vattene Sì me ne vado Però ripeto Siamo già stati in quest'Ikea Non è mai successa questa cosa Sono sempre stati Classica Classico mangiare da Ikea Cioè Abbastanza buono Non è che sia al ristorante Però mangi bene Le polpette sono buone A me piacciono Me le sono pure comprate Da portare via Spesso sono buone Mi piacciono proprio Poi se mi dici Queste ho le polpette Di mia mamma O della nonna di Franci Preferisco le altre polpette Però mi piacciono Mamma mia Ho aperto da anni C'è un porto Sbaglio Per fortuna C'era un aggiornamento da fare Non me l'ha aperto Fatemi Aprire C'è Adesso c'è una tecnologia incredibile Tu metti il vassoio E scannerizza tutto C'è comunque la tizia Che controlla Ma non è che c'è un QR code Sul cibo Tu metti il vassoio E lui capisce Hai preso le patate Questa è veramente magia Perché c'è il microfono Molle Muovilo Io Ma sì Si può girare Ma è sempre stato così Marco ma da quant'è che non andavi all'Ikea Da Sei mesi Sette mesi Circa E quando siamo andati noi C'era la cassa Normale Sei sette mesi fa Circa sì Dovrebbe essere sei sette mesi Perché era Ancora nel C'eravamo trasferiti in onda troppo Era andato lì per dei mobilini Quindi Anche forse sì Massimo Hai spostato più verso La porta Più verso il microfono No Che sono un po' più lontano Non mi ricordo Mi sembra si vede di più la porta E mi sai così Che ce l'avevi Vabbè Chat Ho perso più tempo possibile ragazzi Ci ho provato Andiamo su Chain Together Perché intanto Dobbiamo finirlo comunque Non era utile perdere tempo Assolutamente No io non ho il tend Ospita una partita Aspettate Dai Fraps Dai Fraps Dillo No no Credo stia semplicemente Perculando Moro Nota un'altra cosa Dai Ah no Pensavo che Avesse lei già notato Un'altra cosa Stavo guardando Dall'altro Moro ragazzi Unico a prendere le decisioni Del canale Il nuovo capo Il principale Il capo ragazzi Il capo Moro Ma tra l'altro Credo sia Draco Che viene in live spesso E ogni tanto Draco Non credo sia Draco Mi pare di sì Il nome coincide con l'account di Instagram Con cui mi scrivo Credo sia Draco Infatti io risposto perché la Draco Se non gli avrei risposto Eh vabbè Il nuovo capo ragazzi Comunque Non so No tipo Non so Moro è il C O non è il capo Ragazzi basta Dai è il capo Vabbè Ragazzi Comunque Stasera Finiamo il gioco Non mi credete Guardate voi stessi È ruttato Marco Mamma mia Una idea Le polpette Entra gli ezzar Prima Ecco Marco Adesso puoi entrare Come farò durante la live Che continuo a ruttare Non posso mutarmi Moro L'hai messa come sigla Per davvero No però Poi la metto Secondo me ci sta Sì sì Grazie player Grazie Grazie Io la voglio Vabbè Comunque Pronti Poi il signor Robertone L'abbiamo spammato Tipo due anni fa Ormai è famoso È di casa Cioè Anzi L'avevamo anche perso Sei sicuro di iniziare il gioco Il gioco Si Cazzarola Oh Eccoci qua Fatemi mettere Un attimo in posizione Da gaming Questo tanto Cioè il peggio L'abbiamo passato Poi vedo la fine Ragazzi Quindi Vediamo la puntellazione Dai Concentrati Aspetta Sono ancora qui A Parigi E penso di aver beccato Jasmine Paolini Forse riesco a strappare un'intervista Ora però Vado all'Ikea A mangiarmi delle deliziose polpette A voi la linea È incredibile come scandisce Sembra Fa spavento Fa spavento Comunque fantastica Jasmine Paolini E grazie a tante foto E grazie a Jasmine Paolini Andiamo Adesso Oh Devevo andare Quella a destra Ma oggi Guarda Mi credo sia Rilassata oggi Non dovevamo saltare? Forse sì Eh sì Vabbè aspettiamo Ma no Vabbè aspettiamo Ma noi dovevamo saltare In quel momento lì prima Quando in alto Adesso Le polpette Oh peralai Dritti per dritti Che stronzo Eri davantissimo Eri Sempre dritto Mi avete calcato Qui secondo me si poteva fare il trucco E andare già sopra Ve lo dico Andiamo Ops Andiamo È proprio il mio chilling game Questo chat È vero Ma pensavo saltasse Con disinvoltura Contra e mangio la verdura Eh ma lo so Poi è Ma si salta sopra Non è che avevo visto che erano Aspetta Sfasati Ciao rover Ehm Liezer è andato via Liezer è andato via No tu sei andato via Eh no Io vedevo moro Eh ma è sempre il solito problema Eh perché io vedevo moro E non te Vabbè Eh qui bisogna salvere tutte e tre insieme Quindi 3 2 1 Via Cazzo ma io non c'era una cosa Oh porca bestia Mi ha tirato qualcosa giù Aspetta fermo Forca miseria Forca Tirami 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 Niente Moro vai sulla bot Eh Oh porca Non so cosa mi ha tirato giù Ok 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 No Aspetta Aspetta di tiro eh Ok Andiamo sulla bot Ok Posto Che stronzi Ma le cam che salti Non ho capito cosa vuol dire Grazie Rimettere 99 Si sta rifresciando Effettivamente siete uno Cioè non siete nell'ordine corretto Ah si rifresciano No si è rifresciato Puramente il sito Puramente ha aggiornato Qualcuno Rimettervi a posto Aspettate Che Non lo metterei adesso No no Era ancora perché te l'ho inviato a te Certo Eh no ti giuro Non ho più toccato il telefono Non ho toccato più il telefono Hai il moro Aspetta Hai il pad con il cavo Vero no Allora dobbiamo andare lì Quando gira Eh ma è possibile È lontanissimo No no quando gira Si fa ti aggrappi poi Si si 3 2 1 Adesso Oddio Mark dove sei Eh non lo so Mi sono partito tutto a sinistra Soltate qua sul volo Trampolino eh Via Ah non è vero Mi sembrava più vicino La tua spettiva mi è ingannato Ok Ok Eh ma aspetta 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 Perché capiamo dove dobbiamo andare Eh tanto lì a destra eh A destra del trampolino Non lo vedo Non lo vedo Si dietro lì Dietro lì Credo sia dietro lì Vabbè Non saltiamo tanto Ok Vabbè Voilà Padella Zoccoletto Gisello Oh piano piano Oh piace Sì qui dobbiamo saltare insieme almeno il primo eh 3 2 1 Via Ma secondo me anche gli altri Sì 3 2 1 Via Colpa mia qua Mi hai scivolato il dito Ok Fai un po' più di qua Un po' più di Tiro Vi tiro Ho veramente le mani unte ragazzi Marco Di sudore Aspetta C'è un oraculo Aspettate c'è un oraculo Eh divenetto viola chiede Oh grande o unico termo oraculo Domani vincerò la nazionale di caduta agonistica Eh ho imbrattato la mutanda con lo rosso di siena C'è la nazionale di caduta agonistica Domani vincerò le nazionali di caduta agonistica Cos'è? Divanetto te lo auguro Qualsiasi cosa sia Qualsiasi cosa sia Ci sta Le mani di Huntelar Ma che hai tu? Prima del check coin Bello sto posto Eh adesso hai visto due cose asiati Che gli No questo è proprio asiati No non lo è È più greco C'è alcune cose in realtà Col tempio sopra e quello sotto Era più greco Siumete E ormai siamo sincronizzati ragazzi Bene così Dobbiamo salire sulla cassa prena Ehi Nasocco Nabucco Ma è rimasto da cacca No no ci sono Aspetta la Vediamo se c'è qualche sicolo O me li abbiamo presi tutti Non li abbiamo presi tutti Non do caffè No Ciao pro No quando mai Abbiamo saltati due all'inizio Da quelle che ricevo No qua è chiuso Eh no no Questa si passa dietro Eh Ci stava qua dietro Allora Questa si va sta Ma non è Questa Sta dicendo il mano Questa si va sta Il pazzo furioso qui Cosa dice Eh Eh via dentro Succa La Dea Atena Via desta ca Atena Andiamo Via Sentite Sta per partire la musica Degli gnomi Era quello eh Sentito io C'è la barca La barca Caronte La banana Non trovo più Caronte Non trovo più il video Della banana Se qualcuno trova il video Del signore che reacta Al tizio Che alla fine Si trasforma in una banana Me lo passate Sta impenando in modi particolari Grazie Francesca Sopi Chi è l'offredo Friggi Che pallura Abbiamo fatto tutti la Sì Ehi Ehi Oppela Mai Ehi Ehi Qua bisogna andare In direzione Della stuono Sì Vabbè Tutto dritto E poi a sinistra Andiamo un po' Indiagonare Ok dai Sium Sium Robo ovvio Una chimera Non è È un cavallo alano Sì Un cavallo alano I fulmini Di Sì Sius Cosa sono esattamente Questi sacchi Oggi abbiamo indossato le dita Da coordinazione Sì Sarebbero sacchi Sarà quello di taylor swiffer Dai Oh Dove Andare sulla graticola Aspetta Aspetta No è troppo poco Questo salto Ragazzi Se non andate No tocca rimanere sopra Ma è sparito Dobbiamo continuare a saltellare Finché Il cuscino dello sceicco Stanno andando Continuiamo a saltare Non possiamo saltare Nella rete però No no Nel Sale lui Puzzolino Dobbiamo saltare nel puzzolino Ci porta lì Nel tettuto Che una certa scompare Mi sa Vai ora Non c'era più sotto Non c'era Ero io Che ho saltato Oh fanculo Oh via Correre Correre Oh fanculo Oh fanculo Oh fanculo Ci siamo Ci siamo Dobbiamo aspettarci Di questi scherzi Del monitor Qui eh Dai Hai ragione Sono anche rimasto appeso Adesso Ah aspetta Adesso verso la grata Sì Quello tra l'altro Si chiama Mipiste No Troppo così Sorpresa nel gange Non dovrebbero essere Cosa Ok Andiamo da Deuteronomio Qui Oye Ieta Era Porca Non riesco a prenderci Piano 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 Non vedo il push Non corri Dobbiamo fare Tre due unghie Sei andato avanti Per favore Per favore Tira su Grazie 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 Come vedete Potete Prendete Apple plus Per tre mesi E si è regalato Una sub Certo O rinnovate Un abbonamento C'è un mese di abbonamento Vieni qua si mora Con i piedi di slip Con i piedi di slip No Ok Bene bene Sulla punta Sulla punta Sì esatto Fate anche il giveaway Che finisce oggi Allora Tre due Uno Via No ragazzi No ragazzi Mi avete trascinato Su Ma scusa Saltate E non toccate Ma io Stai salto giusto È buono che mi porta giù Salti e stai fermo Non tocchi più nulla Non ti muovino Fai po' pi' po' Ma non c'è un coso Sì sì Tanderone Grazie che si ripego Grazie mille Occhio che toccano Ma non posso Vabbè Veloce Se siete più avanti Non posso Ricarica Dove eravamo Punto di sbocco Allora Overrated man Vieni qua Così? Eh Non vi ho visti I belli spediti Io provo a interpretarvi Ma delle volte è difficile Piano piano Adesso ad agio Fate il saltino E rimanete fermi Tre due Uno Via Adesso mi si è appeso Tre due Uno Via Ha funzionato il consiglio di Marco Ragazzi Tre due Uno Via Allora da me Liezzar era appeso Non so perché Lo vedevo appeso io Tre due Uno Via Qua possiamo buttarci di sotto Direttamente Sì sì Second me delle ali ci sono Vai Non è possibile Che non mettono niente Niente Non ce n'è mezzo Le palle Questa è la Grecia Si vede proprio Che vogliono citare Quello Ottimo Questo Della gangia Moro è andato via Vabbè lasciamolo giù E non Vabbè si può anche fare Effettivamente Andiamo dritto di qua Simone Grazie Belli dritti Mi sembra più Gerusalemme Effettivamente no No c'erano i tetti Proprio quelli greci Cosa Dagnettina I tetti quelli greci No però Prima erano Qui c'è dell'azzurro No magari citano entrambi Non lo so Però Quest'altra scala Aspetta ci sono due cose Sono due strade Di liberi Si andrà Ma lì Nel nulla Di libero Scali Mi sa Di libero Nel nulla Volete farlo Il save Se cadi vai lì No Porca troia Ma non ti sei rallentato Tiramenti Mi hai zavorrato a merda Eh ma ancora non ero arrivato al trampolino Eh devi saltare Saltate direttamente lì Ok E via sul palo Bello comodo Occhio che questo quando salti No ragazzi Era palese Ma perché ti sei fermato Perché la palese C'era da fare una roba No devi saltare Eh no perché magari Poi corre il laser Non è detto No era fermo Se ti sei fermato C'hai lasciato nel bene Mi sembra strano Non è strano Ci sono sempre stati Allora è lontano E quindi bisogna saltare un attimo Stanno che non ti va a prendere Vai 3 2 1 Via Boh così facile alla fine Vabbè Eh ma Marco Te l'ho detto Era molto più difficile La prima puntata Io ho detto Adesso ci rincorre Fa qualcosa Boh Ah qui sopra E dobbiamo percorrere La barba di Gigi Non è Gigi Dietro nella collottola Ci guasta Et voilà Questo mi sa di entrare Nella top ten Dei giochi dell'anno Comunque Bello chill Eh sì La stata ricorda Vagamente Gigi Sabani Io credo tu non abbia mai visto Gigi Sabani In vita Vagamente Ha detto Eh vuol dire che è un uomo Quello è Gigi Sabani Questa scende La spara Sparavalancia Eccola eh No vabbè Io mi metto in punta No vabbè Ci mettiamo in punta Così poi ci pentiamo Oh vabbè Sì Oh Senza senso Ma come fa Ma come fa Incredibile Ha fatto lui Sto scemo Tu sei il diavolo Sei un faccia di culo Fa in culo Ormai una mente alveare raga Madonna Mentre leggo Sto guardando Infatti non ce l'ho capito Un cazzo Quante detti voi Ok qua dobbiamo cambiare L'ordine dei fattori Perché stiamo facendo Al contrario Ma si sta muovendo No Per quello dicevo Proviamo nella parte vera Si l'ha detto Che questa è vera Sono volato fuori E' effettivamente di qua Si sta avvicinando Si No si è bloccato Non si può fare Oh no La parte vera era questa Almeno sta succedendo Assolutamente niente Ragazzi Ah no Si si Ah era sotto Soccia Che roba Vabbè Andiamo Aspetta che Arrivò lì Aspetta miseria Oh my goal Si muove davanti Poi tornerà E dobbiamo risalire sopra Zompo Ora qua secondo me Questi cazzo Aspetta Qual è quello del mezzo No è quello che ci No è Eh dobbiamo andare nel secondo Si nel terzo Nel terzo No è il secondo È il secondo Mi sembrava No moro Aveva ragione moro Non è male che l'ho fatto io Giazzar ti tiro su Visto moro Sembrava che non ti avessi dato red Invece Con le ciollate vi dico Scusami Io t'ho ascoltato T'ho ascoltato Sbagliato Sbaglio Dove bisogna andare Lì Allora là Il secondo è safe Il secondo è safe Ma ce la facciamo Però non credo che ci arrivi No Si si vai vai Ce la facciamo Corri E adesso non più Perché sono un pirla L'ho missato Completamente Vabbè Mi santo Completamente Un secondo Che devo controllare Una cosa Che altrimenti Mi farà Impazzire Mi farà Impazzire Adesso Vedete Le webcam tutte Dure Fanculo E C'è C'ha resettato Tutto Nel sito Del cam Quindi avevo La cam girata Dal verso Sbagliato Andiamo Marco Dai Aspetta Ti scemi Dice Andiamo Eh no Andiamo Che Fine della pausa Nel senso Terza Terza sinta Dai Si Aspettiamo che passa E poi andiamo Let's go Sono saltato Troppo piano Adesso ci sto Tiro su Il pescio Non ce la faccio prenderlo Ecco Allora 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 La prossima volta che passa Andiamo al secondo Sì Vai E qui siamo Seifi Adesso Ora capiamo Direttamente là Vai Moro se dici direttamente là Penso che vuoi saltare direttamente Volevo andare direttamente Nella rete Io No Lo facevi scusa Io pensavo Entendessi direttamente Nel sasso di fronte a noi Infatti non stavo capendo Cosa volevo dire La rete è di difiare Anche perché direttamente là Non è una grossa indicazione No direttamente nella rete ho detto No tu hai detto direttamente là No direttamente là Infatti io penso Entendessi la pietra Maledizione Allora sì Andiamo qui nella pietra Terza cutta Sium 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 Passa dopo ancora Andiamo Sium Soldi No Come fai a arrivarci là Ma non lo so Non c'ho la prospettiva Allora saltiamo solo Per vedere il quadrato lì E poi di qua Ok Aspettiamo un attimo Ragioniamocelo E poi dritti Dritti Vabbè Oh forse c'erano gli Ezzaro ancora appeso Sì Ma perché Vedi sono le cose gigante Le cose non gigante E mi confonde Allora di là Gira tutto Gira tutto Gira tutto Ah post Post L'abbiamo girato di nuovo Ecco sì Giusto Colle Ragazzi vedo la fine Dove? Il sole Come Icaro Ci stiamo avvicinando al sole Beh oddio Se guardi sopra c'è ancora un casino E sono stempiato Ok Lì c'è un bastone grande Va girato Non credo sia girabile E come Prano di qua? Di qua sì Dalla lancietta piccola Ok portalo di là Portalo dalla porta a posto Potentissimo Amore lo sai che non stai facendo niente Andiamo di qui Aspettami Allora qui c'è di nuovo il trick track true Vediamo Che me l'hai detto Che me l'hai detto Che me l'hai fatto notare Andrò dritto Effettivamente Eh Meno male Eh ma perché prima non C'è capito Guardate che è già Raddrizzato l'ocello Almeno Adagio a termini Ma che fai? Che fai? Un attimo Ok No Adesso Che è andato giù? Chi? Io non ho toccato niente Eh no Ho toccato lì davanti Perché lo muovo indietro noi Mi sembrava anche di essere abbastanza buono come passo Passo doble No c'è una ciglia nell'occhio Questo è sempre quello che ci ha dato più problemi comunque Forse l'unico Per davvero E va qua arriva No Un pochino fin dietro Arriva qua Arriva Beh arriva effettivamente lì Eh sì Questa ce la meritavamo secondo me Vector pensa un po' Magari lo facessi Così eviti di dire Onti Aonna E c'hai un po' di altre paroline Che ne pensi? Ops Sono cagato Arriva qua Arriva Allora Aonna No non si fa tutti e due questo Ma non lo facciamo anche così l'altra volta? Il fatto che io ero l'ultimo E ci vedo giusti Io non so chi tocca Cioè a me sembra giusto In chi ho visto nessuno Non sto capendo chi tocca io No questa l'ho toccata io Ma questo è un Cioè siamo con gli odi Non saltavamo Quando arriva Quando ripartiva da noi Iniziavamo a correre Quando era nel mezzo Abbiamo modo Non abbiamo modo Però aspetta No però era Andavamo su Saltavamo Quando era nel mezzo Però quando ci torna indietro Quello più corto Quindi adesso Quindi adesso No non siamo capaci ragazzi Io non Io non Vi giuro Non vedo chi tocca Non lo so se ho toccato sempre io Non l'ho neanche visto Vi giuro Ci sto guardando Non capisco chi sta toccando Cioè a me stiamo andando giusti Oddio Che rimbalzo C'è sempre il pesce lì Eh ho capito Tra l'altro secondo me Lo sai cosa si può fare No forse no Girare questo E andare direttamente Lì di fianco nel coso Però no perché sono così Intagibili No Quando torni indietro quello Saltiamo questo Moro che hai Per farvi vedere Saltiamo quello Però no dopo Torna avanti Quello lì Vabbè dai Non possiamo andare avanti Mi sa qua Ma secondo me Stiamo facendo giusto Io non vedo problemi Secondo me Cioè aspetta c'è sempre un pesce Vabbè che lo sussenta Questo vecchio appeso No Gondor Quando facciamo ragazzi Che indecisione Come prima Se ne avevamo deciso nulla Facciamo come prima Eh ma ci vuole un via Io ammetto che ho seguito Giazzare basta Non stavo ragione Ho visto fare il passetto Ma non avevo la certezza Basta Giazzare? No Guarda ci basta Bomba Vedi io ve l'abbiamo Ho girato di fare questo gioco Con Esprit No Allora quando vai indietro Adesso Ma perché mi è andato giù? Aspetta Aspetta Ma quindi era moro? No ma si Mi ha driftato via tutta la parte Mi ha driftato via Allora rifacciamo uguale Allora Riprogrammo uguale Aspetta Conviene usare la tastiera Secondo me Io E' difficile che sbaglia Perché secondo me con il joyper Magari premi leggermente Adesso Vado Capiro Ok Cosa succede? Qua si doveva mettere in posizione Doveva metterli Portiamoci uno vicino almeno Tipo così Ok Possiamo provare almeno Non si appende Possiamo provare così Come ce la facciamo? Eccolo Draco Vedi che ci avevo preso Che era lui Opla Opla Non si appende Ah non si appende Perché non c'era catena È rimasto appeso È rimasto Non c'era catena Effettivamente Non c'era catene Tira il pesce Ok Ok Come Ponte Ponte Dovevo mangiare un bel vocabolario Qui eh Ma non mi sa Stavo imitando Vettel Infatti Ah oh no Forse bisogna dare in acqua Forse Poi citazione Facciamoci conoscere O dietro No Vai a dare dietro No No c'è un tubo sott'acqua Non so Se sono Un pazzo Ali Oh sono Eugenio Io ho detto Ho citato Merrino Prima Ho citato Ho detto Atena Appigliati una catena Perché sapevo L'avrebbe scritto Vector Infatti l'ha scritto Può uscire dal tunnel Come si cambia Il divertimento Occhio Si E insomma Memorie Facciamoci conoscere Posso Aspetta Posso? No Dai voglio provare Voglio No no Lo fare Dai Non voglio No perché è già lunga Devo finirlo tutto Non è lunga Vedo la fine Fa caldo Amore in questa stanza È un forno Che fuck Fa caldo Fuck Maldo Perché sei lì Vedi giù C'è una mongolfierina Va bene Che vi siete buttati Io non l'ho visto Io non l'ho visto Io non l'ho visto Sì Anch'io Io proprio Sono uscito dall'acqua Mi sono ristorato Mi sono ristorato Mi sono ristorato Secondo me Dobbiamo fare qualcos'altro Tipo Saltare su questi cosi Lo sapevo Venite qua Dobbiamo capire un altro Ah bisogna gonfiare Dai tutti Uno per uno Sì stavo gonfiando Ma penso che ne basti uno Sembrava piccolo Effettivamente Ok che potrebbe partire Da un momento all'altro Non che il palloncino Sia così grande Da Giustificare le prombe Forse stiamo esagerando Ragazzi Andiamo Io sto qui Un boss Un boss Un boss Fendo subito Otra vez Otra vez Questa Otra vez Otra vez Lui sta Dove dove andare Anche il po' davanti Sì 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 Adel Andiamo dai Ah qui un bel 3 2 1 Via Un bel 3 2 1 Via 3 2 1 Via Sinistra Sium Sono le ali Le ali della Liberty Bisogna prenderle quelle Ah sì Andiamo a destra Torniamo I nostri passi Sugli occhi Probabilmente Sì Guardiamo le olympia Di Chi Intanto le stiamo seguendo Tutte quando siamo a casa Io le tengo sempre Di sottofondo Esatto Che non sono Perché sono due canali Sulla Rai Non sono mai quelle guardate USA the basket A me buffera Purtroppo Comunque la fire stick Ma in realtà Non è la fire stick Perché abbia avuto Un po' di problemi Il wifi In questi giorni Con il mod Anche al telefono Mi dava problemi Ok Conteria Ok Qua bisogna salire Sui succhi prensili Non credo Bisogna salire lì Però Come no Ha funzionato Ma non penso Fosse la via corretta Questi sono i succhi prensili Qua si comi con Tanti colli Ok Basta non muoversi Ma perché Vieni qua Ma tu usa Sempre appeso Sto vecchio oggi Ecco qua Da tutti Giulia Cioè se cado io Se cado io Eh sì perché io in mezzo E voi due Ti siete solo in due Quindi rimane appeso Dovrebbe reggere L'ultimo Dovrebbe reggere L'ultimo Perché io vi ho tenuti Parecchie volte Ok basta Volevo provare Andare direttamente sul secondo Si può arrivare Sul secondo Dai 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 7 9 10 10 12 7 7 8 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 19 18 18 19 20 18 19 Siamo i più forti, vai Gibbo, non sai chi è Picci? Lo stai citando solo perchè l'abbiamo citato io vecchio Andiamo, oppure l'hai recuperato in questi giorni perchè l'abbiamo detto noi Chi è, Marco? Che pagliaccio E' un giocatore di caldo Ah, il loco Picci Il loco Picci IL LOCO PICCI Io lo conosco, lo conosco E' recentemente addirittura Dazon Tanto così Non che non citino baccate costantemente, per carità di Dio Mi raccomando ragazzi, fate le clip rinominate, le posizionate per i termobest e anche per il resoconto del video perchè uscirà sicuramente il resoconto di questa Non segui il calcio, Gibbo Ehi, Liezar, che fai? Liezar, continui a spingermi, non so come ti pullarti questo Vai Ok Saluto all'altro la 3, 2, 1, via Aspetta Liezar Sul tetto del mondo Sul tetto del mondo Sul tetto del mondo Per rifare il puff Sì Non è il puff puff C'è un cuscino però, non è quello Non c'è il calcio tra questi, Gibbo, comunque Io ce l'ho la lista, me ne abbiamo andata Io ho fame infatti, voglio un pancake Io ho fame Mery, appena esce quello nuovo ci spacchiamo Ma anche guarda le remastered, non lo so Ci devo pensare Non so, fammi vedere se si vede alla fine un attimo Effettivamente non sale più molto Cioè, non so Quella la è la fine Potrebbe Effettivamente Si salta Dove cazzo Aspetta 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 Che è successo? Alles It is Ah senti che arietta che ci va su eh ma il vento del pavadiso no qui si scivolerà ragazzi oh no vabbè qua c'è il ghiacciolo oh frena piano 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 riprendete position oh ma come va dire hai scivolato veramente forno guarda piuttosto prendete arrampicatevi che così vi blocca fate adagio ma il problema infatti è quando arrivi sulle piattaforme cioè sullo spazio perché scivoli maledetto è andato moro io lo seguo ma sei un bastardo te lo dico io mi diverto vedere dietro prendere la palla di cemento acciaico sono un materiale andiamo a gela non è gela aspetta allora ok adagio 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 senza usare lo sprint qui senza usare lo sprint con calma prendete position ok 3 2 1 via è difficile qui ok quindi se si arrabbichiamo però almeno ti blocco 3 2 1 via ok vedi almeno ti bloccate 3 2 1 via ciao cazzino ok eccoci qui aspetta a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra di qua buono ti flex non ho veduto molto sono dei crackerz o si storpiano sono quelli di riso si quelli di mais o di riso si girano occhio si 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 andiamo velocemente di qua andiamo sul crackerz tu aspetta tu aspetta è molto grande per me vi salvo vi salvo grazie grazie questo è il catrame questo è godi guardala su la fine aspetta vai vai focus mic si si ci vuole qui un po' di qua saltiamo di qui e poi potiflex chi è potiflex quello giocoso va di qui poi popi popi oddio cos'è quella aspetta aspetta ah bisogna passare dove c'è la faccina dove c'è la faccina bisogna andare là verso destra però lì perché sono tre faccine brutte eh no le faccine brutte vuol dire che è brutto ah perché qua tipo ce n'è una piatta una media non so cosa vuol dire eh ma comunque andiamo nella media aspettiamo il divieto di sosta si dopo adesso non mi ha saltato che vedi faccina felice perché si è alzato no non era felice quella come no no si era felice si era felice ma poi si è alzato tutto non ho capito cosa è successo siamo tirati tutto ah vi dice l'ordine vi dice l'ordine ancora ok vi dice l'ordine no ragazzi aspettate un secondo eh non lo so perché il sito del fanta mi ha attivato le notifiche e mi fa fliccherare tutto come lo level chiudilo ma perché c'hai aperto no le notifiche del sito ma io non l'ho mai avute come si chiudono mi fa fliccherare tutto mi sa che devi formattare ma se passiamo in questo momento però scusa ma io non ci sono impossibile boh vabbè non ci penso dopo vabbè dai dopo di questo andiamo adesso nello spazio coeso allora triste felice felice triste aspetta moro è andata via eh no è andata via era il pezzo di sotto andava giù eh si devi correre in avanti devi correre mica devi stare fermo eh no ma ho saltato mi sono rimasto appeso no ma devi correre in avanti non devi stare fermo grazie caribulli che mi ha proprio tirato giù grazie caribulli io sono l'ultimo aspettiamo dopo di questo adesso io vorrei aspettato un po' no tanto questo è facile ragazzi questo era difficilissimo io l'ho fatto subito bastava aspettare che arrivava aspettate quando arrivano le faccine ma tanto poi ti arriva quello eh le faccine tanto c'è non cambiancazzo devi farli tutti è lunga fino alla giù ma no ma non è difficile ragazzi non è difficile basta saltare un attimino adesso triste medio felice tirato triste eh niente no ma se falliamo il salto iniziale si eh si andiamo felice triste medio felice ma hai detto felice felice triste medio e moro tu sei andato da triste moro sei sbagliato hai sbagliato tu eh felice 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 era felice era quello sbagliato sono andato eh si era dopo di questo adesso dobbiamo saltare tutti ci sono si tira l'ultimo non c'è verso ma deve saltare tutti deve saltare tutti insieme eh aspettiamo dopo il giro ma sono due merda ma tanto questi non si fanno impossibile questi medio brutto brutto vai porco giudano ha saltato però ho capito non salta ok che ce l'ho editato di sudore però anche prima me l'ha fatto aspettate che sto sistemando il culo felice triste medio ma perché saltate così moro lezza sei saltato mentre dicevi ma perché hai risettato no erano è perché eravamo appesi per di tutto il tempo no eravamo tutti e tre già pronti no io vi vedevo sotto appesi che stavate arrampicando sento un po' di questo tre due uno via oh triste meglio medio felice triste brutto medio felice attenzione qui coesamente merda no mi ha preso mi ha preso no mi ha preso madonna mia non puoi neanche non puoi sbagliare difficilissimo è difficilissimo tocca che vedete voi se saltarlo o no eh no ma stavo capendo quello ma non ho fatto in tempo tre due uno via felice triste medio felice felice moro non sai le infacce le faccine non sai le faccine moro sei andato da tutta l'altra parte l'avete preso a sinistra voi no perché mi hai tirato tutto hai sminchiato tutto moro sei andato a destra da me non ha tirato niente eh a me si sei andato tutto a destra non so perché tre due uno via ok felice triste felice moro felice ma era brutto moro non sai le faccine non sai le faccine oh mi sto rincoglionendo moro ho le faccine c'è un sorriso moro mi giuro io le vedo di veri si confonde tutto le li noi tu non guardare eh non posso devo farlo anche io adesso vai ce la facciamo non ce la facciamo ce la facciamo salta ancora due volte due volte no perché per di tempo li iniziano a crollare subito aspettiamo dopo di questo tre due uno via ok e correte sotto di nuovo sotto qua si salta di qua a destra sinistra sinistra è uguale no non è uguale e l'ho fatto suonato all'altra parte ce l'abbiamo fatto uguale triste medio felice triste medio felice un po' di prima questo come ho ok sentiamo semplicemente sinistra a destra a destra a destra oh ok è capitato a messo la faccina ok adesso facciamo pezzettino per pezzettino e facciamo il salto il contagio 3 2 1 via 3 2 1 via non mi ha saltato ho visto gli azzar è qui ho dovuto il piede molle gli azzar ti si è lanciato mi ha buttato su gli azzar ma spero che abbia salvato si si ok qua saltate e state fermi sempre col non toccate più niente come prima saltate fermi senza muovervi si si 3 2 1 via bene si si ma infatti mi sono mosso infatti mi sono mosso 1 via ho il dito unto 3 2 1 via saltello tattico 3 eh aspetta ho il dito unto asciugati questo dito ciuccialo no non si può fare 3 2 1 via 3 2 1 via 3 2 1 via 3 2 1 via qui passiamo una alla volta posto saltello tattico 3 2 1 via ci siamo ci siamo una volta mamma mia dei maestri vabbè corriamo lì e qua eccoci qui non vorrei cadessero sai dopo aspetta no questi non cadono semplicemente compaiono quando ci sei vicino lul 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 aspetta lul 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 è piano piano lul lul sceglia Cade tutto, cade tutto, sicuramente cade tutto Marco perché ti sei lanciato? Ho saltato, è perché uscipo sotto i piedi Dai Tira su il Pacciani Non è il Pacciani Sono Ronald Regatz Insieme, insieme Andiamo dalla bene amata Vi faccio l'urlo del sium, avete visto? Non riesco a gramparmi nel naso Non è ancora finito Sì sì, è quasi finito Si vede la fine per davvero O cioè Perché cazzo fate? Abbiamo fatto un po' troppo spavalli Bisogna farli consecutivi però Qua non si può aspettare No, devi aspettare un attimo Perché ti sei Non pensavo fossimo direttamente sul bordo No, vedi che devi fare i consecutivi Allora, aspetta, aspetta un attimo Non saltate Uno Si girano alternati Sì sì, però salti in uno Ma siete malati Aspetti che gira l'altro Sì, vai Andiamo Andiamo Ah, è passato da dietro Vabbè, saltate voi Eh no, li è già, è un casino Eh no Ma no, ma no, ma no Eh sì Vai Dai 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 Forse è un po' troppo presto Dai E dai Andiamo sulla Bibbia È la Bibbia Veramente È un po' troppo piccola Per essere la Bibbia Eh, ma mica mi sembra Molto più grande di noi Marco Piccolino Amor Sei più grande la parola di Dio Marco, questa tocca Mi sa che la guidi tu Sì So assolutamente io Sono dentro Io dietro Sì Crolla tutto, eh Io te lo dico Marco, Marco Marco, crolla tutto Marco Marco, veloce Ho le dita unte Non c'entra niente Passa nel mezzo, Marco C'è il sudore Mamma Dai, facile È easy, dai Marco, del raro Non è easy Perché fa cagare La guida Però Marco, sei il mio capo Per fortuna Il mio cocchiere Dai, l'ultimo slano Ok Dai, è Marco Siamo noi Filottete sarebbe fiero di me Ecco qui Ora sono i putti Ma dobbiamo cercare i putti In maniera piena Verso Verso l'ONU Secondo me che si guardano Tutti verso il mezzo Sono Giriamo anche Anna Caterina Qui Chi Non è Anna Karenina No, ho detto Caterina Però Quello Intendevi Non lo so Sto danno in tuzione Ormai dobbiamo girarli Verso Invece Invece Occhio Qua è per vedere Da lontano Quando si è allungato Questo Le vagine Ah Il sudore Vallina Niccolò Bisogna mettere l'Orazio Esatto Che è rosso Quindi io presumo E qua Tutti e due sono rossi Sì no E quali l'ora E quali le minuti E lo so Mi tiri Tutto qua Ma perché Devi stare lì Brutto bastardo Perché mi tirate Se no mi muovo E sposto la cosa Può essere al contrario Lo mettiamo al contrario Da che parte Ok Ah si uno si è illuminato Quello piccolo Deve andare qui Aspetta Venite qua in fondo Nella punta Oddio Oddio mio Sulla bibbia Alla terza No la seconda No Non esageriamo Cantelli Cesare Guardate lì Eccolo Upanadis San Pietro San Gennaro Secondo me adesso Arriva il demonio E ci porta all'inferno Ma ricordate Ogni testo Ogni momento Di risposta Era tutto Mio Orquestrazione Tu Magari Ci eravamo Ma il gioco E' veramente Inferno Siamo liberi Veramente avevo ragione Col titolo Della live Allora Siamo scatenati Guarda Siamo liberi Amici Guardate Siamo� boschi Guardate Siamo 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 Speriamo Di no Signor Goddi Sinceramente Parlando Viene caricata Subito No Sempre 24 ore Dopo Ragazzi Verso L'infinito E' otranto A comunque La potete vedere Anche qui Sì, infatti La potete vedere in pazzo Poi comunque c'era il video L'ultimo video È stata racchiuta in quattro ori Dai, meno di quattro ori C'è l'ultimo video però da fare, eh Speedrunnata, eh, se posso Ehi, questo Oddio, vi rischia YouTube è un'ora e venti Ah, che succede? Il due, raga Beh, se fanno il due, lo facciamo Il due No, vabbè Anche il paradiso è diventato l'inferno Non è l'hard mod Vabbè, se fanno il due, vabbè, alla fine Beh, è divertente Non è impossible, impossible Cioè, dai Io lo disinstallo Effettivamente ce l'ha Mi ha refreshato di nuovo Dovrai arrampicarti rapidamente Ostacoli piattaforme Per sfuggire l'inesorabile risalita della lava Ah, vedi, c'è la moda lava mod Vabbè, diciamo a tempo Se perdi una piattaforma Cadrai, dovrai ricominciare da capo Il tuo tempo Ah, vedi, perché noi abbiamo lasciato beginner mod Come si tolgono le notifiche di un sito? Marco Non lo so In teoria da sinistra della barra Eh, lo so Ma i checkpoint di 5 metri li scegliamo noi Puoi sceglierlo tu L'ha messo loro la scelta Puoi caricare dall'ultimo checkpoint Oppure da zero Oppure dall'inizio del livello Cioè, sì, sono iscritto Eh, ma perché mi piace un sacco la fibia, Thunder Sì, ma Thunder, capisci che se dovevamo rifare tutte le volte in live Saremmo ancora all'inizio Ok All'inizio no Vabbè Siamo stati campioni Ci sono gli oracoli Potete solo succhiarlo, ragazzi Facciamo questo oracolo di Pego Sarà questa la sfida del Rage Quit? Non lo è stato Direi che possiamo fermarci qui Nel senso di andare Basta solo quello Sì Ragazzi, a questo punto L'unica cosa da fare sarà Rai da regatto E ci vediamo domani mattina con Nehru Truck Direi C'è Nehru Truck, sì Invece venerdì iniziamo Eh, che se vuoi partecipare Come al solito Venerdì invece iniziamo quello della polizia Ganzo Devo comprare Dai, chat Un salutone A Grazie a tutti Unitimità Grazie a tutti.